Siamo qua con Daniele Daniele, come hai scelto di fare questo cosplay? Che prestaggio sei? Broli da Dragon Ball Z, di Muglio Marocco Deve partecipare alla cala ovviamente, giusto? No, non sanno, non devo partecipare Come mai non partecipi? Voglio rilassarmi, voglio camminare un po' per la fila Ok Senza anzi Com'è questo Napoli Comic Con 2015? Eh, c'è un mondo e c'è un mondo Però una volta è bello, però una volta è buce Ho aggiunto tutto, vai Daniele